Acerbo, polemica con il garante dei detenuti, lei chiede addirittura le dimissioni di Cifaldi, perché? In qualità di autore e promotore della legge che ha istituito nel 2011 il garante dei detenuti, ritengo gravissimo quello che ha fatto il nuovo garante eletto in Consiglio regionale dalla destra e dal Movimento 5 Stelle con l'astenzione del PD. Ho denunciato che quanto stava promuovendo con il comunicato che abbiamo letto sul sito della regione Abruzzo era una cosa d'arancia meccanica, il garante dei detenuti deve occuparsi dei problemi che ci sono dentro al carcere, che è pieno di poveri cristi e di gente che spesso per condizioni sociali non è in grado di difendere i propri diritti. Tra di loro ci metto anche le stesse guardie carcerarie, perché se le carceri non funzionano anche per chi ci lavora, per gli operatori, sono guai. Invece ci troviamo uno che promuove i suoi esperimenti di professore universitario sui detenuti. Ieri, dopo la mia protesta, si è pronunciato il garante nazionale dei detenuti, che è la massima istituzione in materia, definendo questa rancia meccanica di Cifaldi inaccettabile. Ricependo sostanzialmente tutte le cose che avevamo sostenuto come rifondazione comunista nei giorni scorsi, ma anche i radicali con Rita Bernardini e altri ancora, sono usciti articoli su tutti i giornali nazionali, e soprattutto segnalando una cosa, che c'è un conflitto di interessi, come io avevo sostenuto. Se il professor Cifaldi vuole fare le sue ricerche, le faccia, e si dimetta da garante dei detenuti, perché il garante dei detenuti deve valutare se ricerche di quel tipo, che ricordo il garante nazionale ha definito, contrario agli standard internazionali, e che bloccherebbe se Cifaldi provasse a farle, insomma, Cifaldi, secondo me, se si dimette meglio, il Consiglio regionale dovrebbe eleggere una persona che si dedichi, non a fare l'imitazione di Cesare Lombroso, perché è passato un secolo, ma ai problemi dei detenuti, che sono enormi, perché se il carcere funziona, poi abbiamo meno gente che quando esce torna a delinquere, e abbiamo esseri umani a cui è garantuita quella rieducazione prevista dalla Costituzione.